Nel 1971 io e Nico abbiamo incontrato un personaggio che si occupava di musica classica, musica da film, e lui in qualche modo ha tentato di farci incontrare la musica classica, noi in qualche modo abbiamo tentato di farlo incontrare la musica. Mi è nato un disco molto speciale per noi, che ci portiamo dietro veramente da meno, e si chiama Concerto d'Osso per il mio ragazzo. Non lo sentiamo, il violino non arriva, e questi sono i guai dell'elettronica. Il concetto grosso constava, questa è che parola constava, i tre movimenti di tipo classico, l'allegra, l'adagio, l'andante, poi ce l'abbiamo detto morto. L'allegra, le facciate non sono morto. La musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.